Le liste di attesa sono state azzerate al CERD della ASL di Pescara, come ha annunciato oggi alla stampa il direttore generale dell'azienda sanitaria Armando Mancini, insieme al direttore del servizio per le dipendenze Moreno di Pietrantonio e ad alcuni componenti dell'equip che è costantemente impegnata nelle attività di prevenzione e cura delle dipendenze da droghe, alcol, ludopatia e nomofobia, che insieme al gioco d'azzardo sta assumendo proporzioni preoccupanti in Abruzzo perché investono persone di tutte le età e di tutte le categorie sociali. Il CERD è riuscito con notevole fatica ma con una elevata professionalità ad abbattere le liste di attesa. Le persone vengono prese in carico in tempo reale. Questo è un dato estremamente importante perché sappiamo che chi ha un problema di dipendenza deve essere agganciato immediatamente e invece rimandarlo o differirlo nel tempo può voler dire perderlo definitivamente a una possibile terapia per le dipendenze. Dipendenze che non sono più solo quelle da farmaci, quelle da droghe, quelle da alcol, quelle da tabacco, ma che sono anche le dipendenze comportamentali. La prima di queste, la più nota, è la dipendenza da gioco d'azzardo patologico. Noi abbiamo famiglie in realtà che si rovinano per il gioco di azzardo patologico che si svolge non più nei tavolini dei bar, ma spesso semplicemente online. Il messaggio che noi vogliamo mandare è che si può guarire, basta prendere coscienza, avere il coraggio di dire la propria condizione e rivolgersi ai servizi. Tra l'altro è un servizio questo, l'unico forse, assolutamente gratuito, non bisogna pagare neanche il ticket, quindi basta solo chiamare la ASA di Pescara. Abbiamo più di 1100 pazienti in questo momento in carico tra tutte le varie dipendenze, quelle da sostanze stupefacenti, appunto dal gioco, da internet, le nuove dipendenze. C'è una nuova patologia chiamata appunto anomofobia, che è quella proprio legata a internet e all'uso del cellulare. Abbiamo stilato 10 punti in cui vedere chi ci si riconosce per capire se è a rischio o meno.